salve a tutti ragazzi bene di questo nuovo il battle dove io mi shift o ita ok tutti a citarsi la banana dai è brutto c'è una banana perché poi di entra da una parte brutta per il morducculo ecco tanti mi piace adatti mi piace da mediato adesso è guarda che non entriamo nel minigioco è no però dammi io mi abbasso intanto che il porto se t'abbassi qualcuno che sei in cura American football americano si può fare un pallone no io lo so cosa si può fare come è fatto il pallone del football americano il football americano dovrebbe essere rugby vero sì sì la palla non è quella ovale la vabbè allora sarebbe da fare è una bella cosa lo so io invece che sto fa storta vinco io schifosi no no te pare che sì non puoi vincere eh sì invece storta vinco proprio io no no te lo scommette vai come la vuoi vince ma lo vedi eh ma non te lo dico però eh non muo di io non so come si fa una palla ma non mi piace ma non mi piace non mi piace è assurdo perché boh oppure dovrebbe essere solo una palla vabbè e che palla mi riesco a fare una però conviene a fare una palla oh viene fichissimo così ma mannaggia a me non sa come fare cose Ora mi serve la staccionata Che c'è? La staccionata Io caro Morduk vuoi le botte? Vuoi le botte? 1 2 3 4 5 6 7 8 Sai contare? Non lo sapevo. 1 2 3 4 5 6 7 8 Si che sa contare Siete solamente invidiosi Che sai contare sicuro Perché io sto per fare qualcosa di troppo bello E poi rosicate perché siete dei rosiconi Veramente no Io non so che cosa fare Cioè proprio così così non faccio niente 3 minuti e non so che cosa fare Che figo E sta bene Ma io a te non ti ho detto niente Se tu hai iniziato a fare il gradasso E sta bene Allora Adesso mi serve il marrone Mi devo fare il pallone Io non so come si fa il pallone Poi il pallone non è proprio il marrone Ma il pallone è marrone Il pallone da rugby Queen Far Siamo sicuri che tu e io sappiamo Che è lo stesso pallone di cui stiamo parlando? Sì Sicura? Sì Lo sai qual è quello di rugby e football? Sì Sì E quello vale E quindi di che colore è? Non è proprio un marrone È sul rossiccio Io lo faccio il marrone Vabbè farlo un marrone Pensavo del segno C'è ragione vedo? No Pensavo del segno del tonico No non è vero Vabbè poi ve lo faccio vedere come il pallone da rugby A parte che non riesco neanche a fallo il pallone Però È un po' difficile da qua eh Beh il pallone da rugby più che altro è che devi partire da una punta rialzata Sicuro Non viene Non riesco a farlo venire Così sono male No no Maniaci Noi Noi Hai capito? Lei dice queste cose e ne siamo i maniaci adesso Pure Ecco Ma per me può bastare così non me ne frega niente No a lei Cos'è che ti dico? Che dici? Che io quasi quasi me ne sbatto un po' parcazzo Bro È che non riesco a focalizzare come cazzo è fatto Cosa? Sorella che cosa? Che ne so Come hai fatto che cosa? Addio santo Ma per me non mi è fatto sfogliato oggi quindi lo lascio così No a lei Non me lo vedo proprio guarda Lo lascio così Sai che ti dico? Quanti secondi Sai che ti dico? Che io faccio proprio questo Oddio aspetta no a me la palla dei rugby mi è venuta uno schifo Io lo faccio così Madonna che brutta cosa che ho creato 5 4 3 No 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 Non lo è Oh no 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 l'ha finito Che cos'è? Ok Ma lol Ha fatto il campo? Si però l'ha finito Ok Che sfiga Bardook cos'è questo? È il campo da football Non è un campo da football Questo è un campo per farse le strisce di cocaina Non pare che si fa così eh Cos'è sta roba? Cioè sono le yard quelle eh Sono le yard Questo sembra un panino Lol Un panino no 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 Lol E questo sembra il forchettone Si Hildan mi piace Super poop Non mandava Questa sarebbe una palla da rugby piatta mi stai dicendo Aveva sempre un piano cottura Si effettivamente È un fornello Guarda questo Questo è un hot dog Super poop Cioè Dai Almeno ce l'ho provato Questo è un hot dog che va a finire dentro una griglia Io ho detto ok Solo perché ce l'hanno provato Guarda questo vince per colpato Io stavo a fare il pollone a tizio Questo è amico di Hildan Questo è amico di Hildan No questo no Guarda la palla Questo so io strozzo Perché non l'ha finita Ah ok sei tu Che schifo Scusa È amico di Hildan Questo è amico di Hildan Guarda se vede proprio dal C'è qualcosa che ti ho messo poop Però non ho capito che tu Questo è calcio Questo è super poop Però questo è calcio dai Ma questo ha capito male il football Sì perché A parte che in America Il calcio Il calcio lo chiama soccer Eh infatti Che è sto coso Questo è il più libero I spettatori Aspetta aspetta Io un ok glielo do però Snack shop Snack shop Gigi Ha fatto proprio la partita Guarda Il più semplice possibile Min fail Pinf Io gli metto leggenderi Dai No non mi interessa Oh no Leggenderi Un altro leggenderi Chi hai vinto Oh terzo Si è arrivato terzo Si è arrivato settimo Dai Si è arrivato terzo Che schifo Ma è truccata sta partita Non è truccata Non è vero È truccata È truccata Perché Perché il cupetto di terra Dovrebbe essere la palla da rugby Ma vaffanculo Va bene ragazzi Questa è stata un'altra puntata Della build battle E sono arrivato terzo io Vaffanculo È tutto truccato Si è tutto truccato Pure la banana è truccata Non è vero come è truccata Guarda C'è rossa in faccia Io la vedo sotto terra Perché vedo sotto terra Però non lo so Perché Va bene Sono il ditler 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 Ci vediamo alla prossima puntata Della build battle Ragazzi Ciao Ciao